L'impatto negativo sul campionato italiano, non soltanto dalla classe arbitrale che anche da Firenze esce clamorosamente sconfitta, è quello di Torino, perché è inutile girarci intorno, il campionato non lo sta affarsando, è soltanto il sistema calcio e appunto Firenze è un po' l'apice di quello che è successo per l'intera stagione con l'Inter, chiaramente favorita da una vergognosa direzione arbitrale, non soltanto nelle valutazioni tecniche in campo ma anche nell'atteggiamento dell'arbitro, palesemente a favore dell'Inter. Quando è stato chiamato al VAR Aureliano ha dovuto andarci proprio a fatica, erano messaggi chiari, ve l'ho detto nel video precedente, intanto ben trovati, inizio settimana, la settimana che porta secondo me a una partita, quella tra Juventus e Inter, di cui parleremo di qui è poco e ve lo dirò per tutta la settimana, perché è una settimana dove secondo me apertamente la Juventus è favorita. Allora, dicevo, l'impatto negativo sul calcio attuale italiano non è soltanto quello di questo sistema di cui vi stavo appunto parlando, ma è soprattutto sulla presenza di Allegri, che è una presenza nociva, fa male non soltanto alla Juventus, ma fa male al calcio. I messaggi di Allegri sono molto negativi per il calcio italiano, diciamo la verità, intanto la sua ludopatia palese non è un bel esempio per nessuno di noi e questo lo porta ad essere pazzoide come i cavalli, lui che è proprietario di 8-9 cavalli e che fa dell'Ippica, giustamente l'Ippica è uno sport intelligente, non è uno sport stupido come tanti cretini vogliono far capire, fa dell'Ippica la sua prima passione, ci sta, è tutto molto rispettabile. Il problema è che la sua presenza è in marcia, è negativa, Allegri è un cattivo esempio per i giovani calciatori, per i pulcini, per gli esordienti, per i giovanissimi, per i giovani allenatori, per Coverciano. Allegri è un esempio da non imitare, non soltanto per quanto riguarda l'atteggiamento delle sue squadre. E qui si passa dal sottile equilibrio di un atteggiamento sportivo ad un atteggiamento illegale, perché non far attaccare la propria squadra continuamente, nemmeno in contropiede, perché la Juve non fa mai la ripartenza, non fa mai i contropiedi. anche questo può essere vista la discutibilità dell'uomo, può essere un segnale chiaro che le partite sono manomesse, perché le partite secondo me sono manomesse da Allegri. Ve l'ho detto nei due anni precedenti, ve lo dico ancora oggi, troppi errori per uno che prende 9 milioni all'anno, costituiscono senza ombra di dubbio qualcosa di molto grave, cioè nelle partite contro l'Empoli si è verificato quello che si è verificato per tutti e due i campionati precedenti. Ogni partita, ogni partita. Tanto è vero che condissavamo il fatto che in 101 partite mai la stessa formazione, sempre allegrate, allegrate, allegrate. Ma io non sono più in buona fede, io non ho buona fede, nel senso che nei confronti di Allegri che non è in buona fede, non sono nemmeno io in buona fede. Io ve lo dico apertamente, penso male di Allegri, perché una cosa del genere fatta in quel momento non ha spiegazione, non c'è nessuna spiegazione. Io credo che Allegri dovrebbe essere intercettato, dovrebbe essere controllato, dovrebbe essere marcato a un uomo, perché è lui che sta manipolando il campionato. E la voce insistente che c'è del suo probabile passaggio all'Inter nel dopo Inzaghi, a me fa molto pensare, anche se è evidente che ci troviamo di fronte ad una contraddizione non è chiara, perché è più facile che Allegri va all'Inter se vince lo scudetto con la Juventus, lo perde Inzaghi, viene esonerato Inzaghi e Allegri va all'Inter. È meno probabile che se vince lo scudetto l'Inter viene esonerato Inzaghi. Ma la voce è insistente di un passaggio di Allegri verso l'Inter. È molto insistente. Certo, l'Inter non potrebbe sborsare 9 milioni a stagione, per cui anche questa voce, a mio modesto parere, lascia il tempo che trova. È una voce buttata lì, forse anche per destabilizzare i due ambienti. Ma il concetto di mala fede lo faccio tutto mio. Non credo più nell'onestà di Allegri. Non è una persona onesta. L'atteggiamento contro il quale si è scagliato su Ildiz. È molto, molto particolare. Guardate. C'è con rabbia. Tu non lo fai giocare. Vai in sala stampa e lo accusi. Gli fai battute contro. Io che devo pensare? Una persona che deve pensare? Le manipolazioni. Ha rotto il giocattolo. volutamente. Quando vi dicevo, guardate la tripletta di Milik in Coppa Italia. È grave. Perché fanno credere che quello è un giocatore di calcio. Quello non può. Il calcio e Milik sono due cose diverse. Non tanto per il fallaccio che ha fatto, che denota un certo nervosismo. è una certa irresponsabilità come uomo. Al calciatore, naturalmente, giustifichiamo l'impeto. Ci sta anche. Però questo arriva dopo che non doveva essere schierato. Dopo che aveva stoppato la palla a cinque metri. Dopo che Alexandro aveva fatto un passaggio errato. Quindi guardate come l'ha persa la partita. Schierando Alexandro e Milik che hanno confezionato l'espulsione. Che la c'era tutta. Una partita di 7 a 0 per la Juventus sulla carta è stata trasformata in un pareggio e forse in una mezza vittoria dell'Empoli. Che se l'Empoli vinceva non c'era nulla da dire. E la Juventus con una vittoria sull'Empoli si metteva a 4 punti dall'Inter con l'Inter che ancora doveva giocare a Firenze. Un'altra partita, anche quella di Firenze, sarebbe stata. Totalmente. L'Inter non avrebbe potuto ragionare come poi ha fatto. Quindi comprendiamo bene la serietà del momento. Perché lo scudetto si sta giocando sulla malafede del sistema. Ormai è chiaro, no? Non è che vogliamo fargli piangina. Perché non è uno, due e tre partite. In ogni partita, compresa la Supercoppa. In Coppa Italia non hanno avuto i favori, sono usciti fuori. Parlano i fatti. Ma in ogni partita hanno 3, 4, 5 favori contro che sono determinanti. Poi ne hanno anche altri che non sono determinanti. Poi si ci mette anche la fortuna. Ma statene certi che se il rigore di Firenze fosse stato sbagliato contro la Juventus, oggi parlerebbero di partita venduta dalla Fiorendina. Ma anche l'atteggiamento di Firenze, della città di commisso che è uccelli di Bosco, non si trova dopo le fetenzie fatte dall'arbitro ieri sera. Non dicono una parola. perché? Tutte le squadre che giocano contro l'Inter non parlano mai perché sanno bene che oggi il calcio italiano è nelle mani di Marotta, di Seferin e di Infantino e quindi di Gravina. nessuno si mette contro quella gente. Nemmeno la Juventus che non parla. E allora la Fiorentina non si mette contro quella associazione a delinquere. No. E non parla. Come Lecce e come tante squadre. solo il Verona ha parlato. Ma il Verona ha una situazione rocambolesca. Ha venduto sette calciatori e la squadra ormai fallita cerca il paracadute per retrocedere e allora ha parlato. perché non se ne frega. Non ha nulla da perdere il Verona. La Salernitana non ha parlato contro l'Inter. Perché è lì il covo della gestione patronale di questo campionato. È inutile che ci giriamo intorno. E in questa situazione Allegri ci sguazza. Ci sguazza totalmente. Perché Allegri questa situazione la conosce molto bene. Non è un fesso. È un furbetto. È amico dei giornalisti che gli spiegano tutto. Le scelte peregrine, vergognose, scandalose di Allegri sono il frutto innanzitutto dell'incompetenza. Ma ancora di più della presunzione e della forza che gli danno i giornalisti amici. Avete visto Adani, Cassano, sono scomparsi. Stanno sui social. Non gli fanno dire niente più. che gli ha distrutti Allegri. La forza che gli dà il sistema è soprattutto gli allegriani presenti sui social al pari degli interisti. Sono uguali, guardate. Io ho gli attacchi più furiosi. Cioè li ho dagli allegriani ex-juventini e dagli interisti. Perché è evidente che quando gli sbatti in faccia la verità fa male, prude il culo. Allegri è proprio questo. Sa di godere della protezione generale e fa il padrone della Juventus. Oggi lui è il padrone della Juventus. Uno che si permette di mortificare un giovane campione come Ildiz. E se io fossi il procuratore, piuttosto che un genitore di Ildiz. E mi farei sentire. Andrei alla Condinasse e dice Ehi, ma tu scippogliati, ma sei proprio scema. Ero io il padre di Ildiz e Allegri se la cavava così. Allora tu non puoi mortificare un giocatore, un astro nascente. Immaginate se Trapattoni dopo l'esordio di Del Piero lo accantonava. O la triade nell'esplosione di Del Piero fece fuori il baggio, no? Quello significa fare calcio. Non tarpare le ali ad un giovane calciatore. Per che cosa poi? Per insistere con una spudoratezza vergognosa su Miretti. La situazione in Miretti è una situazione illegale calcisticamente. Ve l'ho spiegato già prima della partita. Per me se io fossi salaritana, Cagliari, Udinese, Sassuolo e via dicendo farei causa alla Juventus e ad Allegri. Perché contro l'Empoli non ha messo la formazione che il regolamento federale mi dice, cioè la migliore formazione. Non l'ha messa. E per effetto di questa situazione l'Empoli ha pareggiato e poteva vincere la partita. quindi per me c'è calcisticamente un dolo. Potrebbe configurarsi un illecito con le indagini fatte. E non direi poi, diciamo, il sistema Kine contro la Juventus. Sì, sì, contro la Juventus. Perché Kine non indaga se Juventus è Empoli? Eh, non indaga. Per me c'è da indagare se Juventus è Empoli. È una partita fatta. Perché poi la Juve rinuncia dietro, dietro, dietro. Per me è doloso. L'arretramento della Juventus è un atto doloso. È un illecito. Il calcio è attaccare, attaccare. Tu non puoi difendersi sull'uno a uno contro l'Empoli. È doloso. C'è il dolo. Non è possibile. Non mi fido più. Io di Allegri. Non mi fido. Poi mi chiamate pazzo appena sentite queste parole. Poi leggo da più parti a ragione Vessicchio, a ragione Vessicchio, a ragione Vessicchio. Che poi riconoscono che io ho ragione. Perché c'è tanta gente che è onesta intellettualmente e mi dà ragione. Perché così è inutile che vi girate intorno. Ancora pensate alla buona fede di Allegri. Chi pensa alla buona fede di Allegri è un pazzo. È un sognatore. C'è uno che fa queste scelte. La questione Miretti è una questione gravissima. Perché è un conflitto di interessi all'interno della Juventus. È evidente che Allegri con Branchini hanno una società, diciamo, culta. No. E tu gli fai giocare questo giocatore per più di 50 partite. Cioè quando lui dice in conferenza stampa Miretti della Juve ha giocato oltre 50 partite con lui allenatore è un'ammissione di colpa gravissima. mi sta dicendo che c'è un'associazione interna tra lui Branchini e il padre di Miretti molto evidente. Mi chiamasse l'avvocato di Miretti. Mi chiamasse. Che la scoverchiamo questa cosa. Perché non mi querenano? Perché la scoverchiamo. Perché andiamo davanti al giudice. Potevano fare delle indagini. E vediamo se è vera questa cosa. C'è un'associazione chiara, evidente. Altrimenti Miretti non può giocare a nessun livello. Però fa più di 50 presenze della Juve. È un fatto colposo, doloso, illegale che un giocatore come Miretti fa oltre 50 presenze nella Juventus. È grave per più situazioni. È grave per effetto della presenza in campo di un giocatore scadente per cui dai dei vantaggi agli avversari. Chi sono gli avversari? È grave perché tu mettendomi i retti mi fai capire che vuoi avvantaggiare lui, il ragazzo, rispetto ad altri. Magari puoi metterlo sul mercato e dato che il suo procuratore è lo stesso tuo e avete dei rapporti chiari, poi il mangia mangia è totale. Ma che siamo ammattiti. Ma voi pensate che siamo dal vero sceme. Cioè qua siamo buoni ma non fessi. Mica ci possiamo bere tutto. La Juventus non può consentire il Miretti Gate. Non lo può consentire. Ora basta. Credo debbano mettere la parola fine a questa vigliaccata nei confronti del calcio, nei confronti della Juventus, nei confronti di tutto il sistema. E non sono solo io a dirlo. C'è tutta l'Italia bianco-nera che ha capito questa cosa. Fra l'altro spoilerata, perché va in conferenza il sabato e dice giocami i retti, per dire giocami i retti e poi gli altri dieci. Ma voi pensate che sta facendo il bene del ragazzo? No, sta facendo il male del ragazzo e il loro bene, perché poi lo vogliono vendere. Perché ci sarà chi li crede. Oppure ci sarà chi farà affari su questa vicenda. Ci saranno coloro che faranno affari su questa particolare vicenda. Non crediate che qui stiamo pettinando le bambole. No. La questione Allegri-Miretti è una questione seria, che va oltre il calcio. La presenza di Allegri è una presenza seria, che va affrontata seriamente, non con sufficienza. Perché voi pensate le giocate. Pensate il pareggio dell'Empoli, quante bollette ha fatto vincere. Pensate, la Juve dice dietro, dietro, dietro. Cioè che la Juve non deve segnare. Dietro, dietro. Cioè voi pensate a questa cosa. Cioè contro l'Empoli la Juve dietro, dietro. Altra poco vincevano l'Empoli la partita. Ma siamo pazzi? Quando io vi dico, gli scudetti si vincono con le piccole. perché con le pari grado si può vincere, perdere, pareggiare. Ci stanno tre risultati. Con le piccole c'è un solo risultato. È inutile. Cioè questo squilibrato ha talmente rotto il giocattolo volutamente. Perché quando vai in sala stampa e gioca a Miretti, è bene, gioca a Miretti, quindi per dire, gioca a Miretti. Quando vi dice facciamo il quarto posto, allora lui adesso deve dimostrare che è da quarto posto, da terzo posto e se è là è merito suo. Per cui deve dire, ve l'avevo detto che era da terzo o quarto posto. È gravissimo. Non è un allenatore per la squadra. È un allenatore per sé stesso. Per il suo io. Vi ho detto in precedenza, la Juventus vince a San Siro. La Juventus per me parte da 4 a 0 a favore della Juventus domenica sera. Perché? E vi spiego. Sulla carta. È la squadra che costa il doppio dell'Inter. Per valutazione dei calciatori. E per come sono stati pagati. È una squadra che come mondo ingaggio piglia il triplo dell'Inter. È una squadra che rispetto all'Inter ha tutti i giocatori nelle nazionali. È una squadra che ha il blasone rispetto all'Inter che è quasi la provinciale nei confronti della Juventus. Quindi si parte dal 4 a 0 per la Juventus. Poi l'equilibrio arriva sulla presenza dell'allenatore. Che ti fa crollare chiaramente la valutazione iniziale. Questo è. Inutile che ci giriamo intorno. Questo è. La Juve è messa male con questo allenatore. Ma questo che vi dico io state dicendo. A Torino lo sanno tutti. Lui si è blindato con i giornalisti. Si è blindato con i capi Ultras. Ma mi chiamano addirittura anche al telefono tifosi che stanno in curva a Torino. Che sono nauseati da Allegri. Ma che vengono dirottati diversamente. È una situazione scandalosa guardate. Molto vergognosa. Io ve l'ho detta. Ve l'ho spezzettata un po'. Sono stato un po' confusionario in questo video. Però. Gli argomenti li prenderemo volta per volta. Perché. È evidente che. La questione Miretti. La questione Ildiz. Sono questioni. Gravissime. E poi un plauso a Sole. Che ha prima rinunciato. Alla nazionale italiana. Vi ricordate? Perché lui vuole l'Argentina. Perché lui in Argentina. È portatissimo. E adesso rifiuta gli arabi. Perché io di Angelozzi. Il direttore sportivo del Frosinone. Mi fido. E dato che lo sentite con le mie orecchie dire. Che il ragazzo è stato. Richiesto. Da una squadra. Araba. E ha rifiutato. Perché vuole rimanere in Europa. E questa è la cosa che mi preoccupa. Che vuole rimanere in Europa. Non ha detto la Juventus. Questo mi preoccupa. Perché prima o poi. Tutti questi giovani. Portati da Matteo Tognozzi. Scapperanno via. Perché se tu hai Ildiz. Non me lo coccoli. E me lo maltratti. Me lo distruggi. In questo modo. Ma che scherziamo. Tu scappi dalla sala stampa. Dice. Là doveva stare. In panchina. Ma perché non se scapezza. Su Allegri. Ma perché non se ne va a fa' un culo. Perché. Ma davvero. Noi possiamo accettare. Che la Juventus. Può sopportare. L'antistile per eccellenza. Che è Allegri. È vero. Lo stile Juve. Non esiste più. Perché se no Allegri. Non potrebbe male. Nella Juventus. Che è l'antistile per eccellenza. E purtroppo. Ci sono tutti questi caproni. Che gli vanno dietro. Questa è la verità. Caproni. Nella Juventus. C'è il 2%. 1-2% di sostenitori ancora. Perché lo schifano tutti. Eh. Ma lo schifano in dirigenza. Questo ve lo dico. Per certo. Lo schifano. Lo schifano a livello di establishment. O di opinioni a Torino. A Torino. Quelli che contano. Seriamente. Che hanno contato. Nel passato. A livello di. Quei senti. Intellettivo. Lo schifano. Lo schifano tutti. Lo schifano tutti. Purtroppo. Agnelli. Questo guaio. Ce l'ha combinato. È stato un guaio enorme. È stato un guaio enorme. Perché questo ha frenato. Come ha frenato. Le vittorie della Juventus. In Europa. Ha frenato. La rinascita. Della Juventus. E questa è la lunga attraversata. Nel deserto. Ve lo dicevo. Dobbiamo ancora patire. Momenti. Di sete. Siamo nel deserto. Con questo tecnico. Sulla panchina. Con questo tecnico. è l'affare. Miletti. È sintomatico. Di come lui gestisce. La Juventus. Con. La. Copertura. Dei 9 milioni. Mi fermo qui. Vi invito ad iscrivervi. Il mio canale YouTube. Sergio Vessicchio. Attivare. La campanella delle notifiche. Mettere un like. Se lo ritenete. Opportuno. Mi raccomando. Tanti commenti. Intelligenti però. Mi raccomando. Alla prossima.